musica 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 e la natura è troppo antiestetica a posto io ve lo dico per la vostra io la tengo dai funzione del mane inferiore ahia vaffa è pieno di trappole oltretutto sappiatelo del gel un'altra pozione qui non ci sono libri io sto a raccogliere tutti i libri che posso ma no non tutti i libri hanno le cose c'è proprio un simbolo dei libri cioè ti viene fuori un simbolo sul cursore che c'è un libro magico di per sé vabbè li raccoglio lo stesso capito cioè i libri sono di estetica vabbè avremo tanto estetica a me sembra di averne trovato uno yes ho il dardo d'acqua demoniaco ragazzi cosa? lo diamo alla gaietta perchè si ma ho sempre un sacco di cose quindi prendi guardalo prova a usarlo lo usi come un'arma patata dardo d'acqua come lo uso? demoniaco usalo come un'arma che figata sono bellissima nooo mi potevi da sailor mercoli rubati dalla gaia sii tu sei sailor uranus se troviamo qualcosa collegato al fuoco non è di fuoco sailor uranus chi è che è morto che c'è una tomba lì? dardo d'acqua un altro dardo d'acqua per me per me siiii e i miei maghi saranno utili finalmente siiii dove lo metto? dove lo metto? nell'alimentario oh cristo sono potentissimo oh mio dio che bello quello la discesa si sta rivelando più semplice del previsto troppo semplice cioè evidentemente qualcosa che non è esatto oh oh evo le prime trappole ahah ahahah e occhio agli scheletrii che hai i teschi che passano mezzo a non si può togliere però no non si può togliere è bastarda ingrodini dal punto di vista che è un teschio beh ma è forte questa cosa beh fa male indirizzo e io ne tiro 10.000 ho una bene, un chest con una chiave quindi adesso dobbiamo semplicemente trovare delle slank dentro le chiavi sono spikes e ti fanno male, sono delle delle vere e proprie trappole non è che c'è una porta se non entrava qui dentro io andrò in giro con la macchina dell'acqua per sempre ah quel coso rosso che hai visto girare il coso rosso che vedi girare è un aia è una trappola sempre, va in giro e va attorno ai muri oh attenzione, il meccanico possiamo mandarla a casa nostra è Susanna è vero oltre che cosa figa che vende cosa vende? chiave inglese tagliacavi il cavo la leva l'interruzione pressione che figata guarda tu ok poi 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 la porteremo a casa Susanna non andare giù nel dungeon non è intelligente, è rilegata non è proprio furba Susanna eh no no non è il nome che porta ahia Susanna è morta ok come è morta eh ma tanto tornerà prima o poi ma l'avete fatto di andare lì? eh stiamo caduti allora Susanna può camminare sulle punte senza morire scusa no curatevi ricordate di curarvi perché non è facile qua dentro sappiate guarda me mi ritiri tu? eh me li utilizi tu i libri di magia perché non li trovo si si con la fiamma artistica del mare ok evitata guarda attenta fuoco sta arrivando correndo sui muri eh ma io non sono sul muro da nel muro ah uh un cuore perfetto br� ietenza Leadmala patata ahia aia allora ci servono delle chiavi ragazzi Oh, il goblin. Goblin legato. Bene, abbiamo anche il goblin. Cos'è il goblin? Il goblin praticamente ti riforgia le armi e poi ti dà delle cose fighe. Tipo una workbench fighe, eccetera, eccetera. Cintura portatrezzi. Il rampino! Vende i rampini! Vende i rampini! Poi dato, io ho 8 monete d'argento, dammele. Sono solo 2 monete d'oro, io ho 1,92 e ce l'ho già. C'è già, c'è già. E qua va avanti da un'altra parte. Le compro io, le compro io, tanto ce l'ho. Rampino, buttami tutti i soldi addosso. Negozio. No, no, rampino, rampino. Ok, boom. Sì, rampini, rampinizzato di patato. Simo? E poi, sì, è un rampino! Lo usate con E, semplicissimo. Basta non dovete averlo nel, basta che se ne l'inventare, non dovete neanche averlo nella hotbar. Ah, vero, go, go. Amore. Cacchio. Sai che c'erano le spade più semplici? Aia. Perché? Oh, cazzo. Guardate qua sotto quanta gente c'è. Morite, io ho la spada del demonio! Ok. Sono tutti chiusi a chiave però, sti foglie. Sì, ebbè sì, dobbiamo trovare, ci sono delle slime con dentro le chiavi. Delle slime? Sì. Non ho ancora visto slime. Yes, yes. Patati dungeon master. Ma siamo a vedere su? Siamo potentissimi. Poi, aspetta, ci svolgiamo. Devo mettere una rosa rompino. Oddio. Squalai. Per smollarlo, semplicemente barra, barra. Salta, salta, la patata. Attento, cavolo, ho preso il, Vero fatto di tanti danni. Ehi, ma ci sono i cattivi? Sì, certo, vado a vedere se ma lascia a destra. Aia. Andiamo a prendere la patata, va. Ah, non sulle spikes però, possibilmente Ahia, ovviamente quando si sale Ti fai male Ahia, che fastidio È perché compaio, l'ho capito Ah! Ok, sono caduto Sono caduto su una Su una spike, perfetto Ottimale, ottimale Va bene Il nuke stack, che è il goblin Si è spostato nella casa, che abbiamo creato Eh, esatto E poi arriverà la casa normale Sì, sì, esattamente Sì, sì, perché dobbiamo aggiungere delle stanze Arriveranno in tre, quindi dobbiamo fare almeno altre Due piane della casa Ah, giusto, tutte le stanze Però in realtà siamo qua per trovare chiavi E per trovare la mura massa e anche Un cobalt shield, se riusciamo Che comunque è un drop molto raro Ma che palle sta gente Ah, si muore Ma non sono stato io Patatevi che non sono fatti cadere Gaia, se lanci il rampino in basso Ti salvi Non c'entra, sono caduta tipo in un posto pieno di demoni I vostri cattivisti Qualcosa ha colpito tutte e due E ci ha tirato giù tutte e due Comunque sotto c'è un più vita Sì Patata, torniamo giù Il più vita Prova che c'ho Porco Ecco Sto va partendo, sai No, no, questa volta no Uiii 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 Ciao piccolo Nuk Scus Uiii 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 Basta, lo smetto Facciamo che li vende un po' Uiii Ecco, è cominciato Comunque io sono ancora fiero di noi per l'easy scheletro Sì, veramente easissimo Non so Eh, gente, ma voi non potete obama, ma va, fa un ufo veramente Non ce la farete mai Never, never do that Vabbè, i libri li vendo, ho fatto quelli con raccolti inutili Lo li tengo No, cerchiamo di capire quali sono le quali sono le quali No, 19 libri useless, cosa faccio, li tengo per casa Se vuoi dobbare casa, ti E' che veramente io ho tre blocchi liberi nell'inventario E allora, vedi, boh, non lo so Non so, ho la carota, l'arco Diamo di però l'arco demoniaco, è bello E' l'arco demoniaco, sì, è bello, non devi venderlo, cosa vendi a fare? Ho gli strumenti base I coltelli da lancio, vendo questi Dopo niente Delle stelline avanzate Il bastone della terra, col potere della terra Il barilotto, vabbè, vendo il barilotto, ho già capito, tanto lo faccio Oddio, qua è pieno di robine che mi fanno fuoco, ok, apposta Apriamo qua, oh Cristo Amore, sono da un'altra parte No, non lo so Oh Cristo Eh, ma Eh, vabbè, non va, scusatemi Io continuo a morire perché non mi prendo i tasti Intanto mi fermo Un chest normale, c'è dentro Una chiave dorata, sì, ho due chiavi dorate, ragazzi Grande Ma io non ho capito Monete d'oro, amanna Apre un cesto In particolare ne apri uno a caso Apre un cesto a caso Ah, ok Porco Giuda Ok Grazie Uh Attacca Vieni qua teschietto Vieni qua, prova ad attaccarmi Dai che Un sacco c'è che voglia di attaccarmi Vieni Vieni, vieni da papà Ok, perfetto Vedere una slime normale Le chiavi si trovano anche nei chest normali in giro per il dungeon Ho notato, quindi Dai tranquilli Però sei andato giù a destra, qua giù, ero fino a sono andato giù Che scemo che stu Però adesso adesso torno su perché bloccai una via senza uscita Sono uno scemo comunque la tua mappa, cioè ho te sulla mappa Che palle mi inseguono Ok, faccio Oddio Se colpisci, se colpisci gli spell dei, dei mage Chi? Si, si, li, li interrompi, se li colpisci con la spada mentre ti arrivano Ti faccio questo, te lo faccio vedere Guarda Ah no, eh, ho sbagliato, posso dover rampinarmi proprio del tutto, credo Io devo imparare a rosare il rampino Andiamo di qua La mia povera patata continua a morire qua Sììì Infatti la gente sarà molto contenta delle tue prestazioni Chi sarà contenta? Tutti i nostri fan accaniti che vengono a vedere, siamo scassi a Terraria solo perché vogliono vedere te morire divanti Anche io ho una chiave dorata Bravissima Qua c'è una chest Oh Cristo, e il primo chest mi sa che lo aprirò io Scudo di cobalto Questo dovrebbe essere un rare drop, ma l'ho trovato subito, quindi sono un patato contento Lo scudo di cobalto permette l'immunità allo spintone Cavolo, stavo morendo e non ne sono mai preso conto E beh, perché qua c'è tutto che ti fa danno Quindi di base Andiamo più in basso, Simo Eh, non so, voglio evitare questi Perché te non fa danno? Perché io mi sono... Faccio così E la evito Oh Cristo Eh, no buono Cosa? No buono, no buono, no buono, Sam Perché? Ah, ah, ah Sam Sam, Sam, no buono Perché è pieno di roba e pieno di spikes e non ci posso da atterrare lì E sta per arrivare un'altra di queste cose qua, quindi io ci trovo questo A posto ce ne andiamo di qua Oh, fuga È una ritirata strategica, ragazzi, questa Siamo portati strategici Ah, qua c'era un altro chest, se mi ricordo bene No, mi ricordo male Non c'era assolutamente niente qua Suizio è solo uno spuntone fatto apposta per farti fare male Esatto Vedi, ah, ah, qua c'è, ah, qua c'è una slime con dentro, con dentro la chiave Ah, sono morto Uccidile da Simon Ah, 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 ah Bene, slime, slime 2, squadra 108, 0 È bello che abbiamo ucciso il tipo, però non riusciamo A fare le cose più elementari No, ma è difficile sto danno, ecco, tutta la buona volontà di patate È perché fa, fa tanti, fa tanti danni, cioè, fa pochi danni, ma sempre Di per sé Con le armature che abbiamo Quindi Ah, sei morto tu qui, amore Stavo guardando la tomba Sì, sono morto cadendo Però è tipo verso l'inizio Sì, sono morto cadendo, patata Stai raccogliendo Patata, stai raccogliendo per caso delle candele d'acqua? Sì No Mettile tutte giù Perché? Portano più mostri per ogni candela che togli dei mostri Questo spiegherebbe molte cose Se le butto via Buttale Non rossacci tua patata Le ho buttate Ho appena detto Eh, non l'ho sentito Mi raccomando, non raccogliete le candele azzurre Ma erano carine Vabbè, patata Sono carine e terribili Le cose carine Ho preso una lanterna con catena Sì, non so se questo è la Una lanterna con catena? Sì Sono quelle appese al muro Ah, capito Ciao Io sono Quit Questa è la mia spada d'erba Voglio dire ciao Ciao Vedi qua, ciao Va bene Sto prendendo un sacco di cose inutili Andiamo a uccidere quella slime Perché io voglio uccidere quella slime Voglio le ali E le ali è ancora per molto Ne abbiamo votato Spero che siamo andati giù di qua E c'era la slime giù di qua Sì Sì, la palla, ok Ok, ok, ok Ogni attività, ho trovato un sacco di cose Ok, ah, e sono finito sulle spike Mi sembra giusto Eh, guarda che ti proteggo io Eh, proteggimi da quello Oh, cazzo Aspetta Cavolo, cavolo, stai fermissimo Luna, blu Cavolo, patato Porco, giuda, però Eh, lo visto solo Ragazzi, ho trovato un sacco di cose Cosa, patata Allora, la pozione della gravità Eh, quella ci servirà per cercare le isole L'occhio di Fidente Evoca l'occhio di Cthulhu Che è quello che abbiamo sempre craftato Aspetta Aspetta che mi stanno uccidendo Va bene, io credo di avere la cosa più figa Ho operato una chiave Ok, ho perso tipo un miliardo di punti vita Ma ce l'ho fatto Eh, ma ne servono tante, eh Di chiavi Dobbiamo proprio arvestarle Perché io le due cavevo le ho già usate Ma non ci conviene tenerle per l'isola nel cielo Una magari sì Ma noi ne abbiamo trovato una di isola nel cielo Oh mio Dio, lo scettro magico È che qua, per esempio, si trovano delle cose fighe Io adesso ho una luna blu Che è una specie di palla chiudata Attaccata a una... Ovviamente È tipo una mazza chiudata Croc blu E fa malissimo Cioè c'è la muramasa qua sotto Dobbiamo trovare i cobalt shields Vedi ma queste cose non mi fanno attaccare per un po' Via, via, via Oh mio Dio, troppe cose Troppe, troppe cose Le osse immagino che ci servono Sì, potrebbero servire Teniamole Non so per cosa però potrebbero servire Guardate ma cosa faccio quindi? Apro un forziere qua io? Prova ad aprire un forziere, sì Così vedi cosa trovi È sempre bello poter aprire forzieri, no? Una luna blu Perfetto, è la stessa cosa che ho io 6,3,4 e 3 pozioni curative Però vedi, trovi anche molti soldi qua nel dungeon Quindi è sempre utile Vorco Giuda 10 monete d'oro Io ti ho Simone non puoi capire cosa ho trovato Oh, aspetta ho trovato un altro ligno di magia Dottoro, cosa hai trovato? Un dardo d'acqua offensivo, niente Ho trovato una cosa bellissima Ma ricorda? Eh, ma non so schigare Te lo tieni col nome E' un scettro d'acqua E cosa fa? Spruzza acqua Scettra Spruzza acqua No, veramente È tipo la cosa che abbiamo noi Però è un scettro No, è stato spezzato a metà No, è stato spezzato a metà Eh, torniamo in dre Poi vedere un po' come sono i miei temi nuovi Ma c'è una luna illuminati È terribile Posso venderle qui, luna passi Luna blu al goblin Sinceramente non me ne faccio nulla Che cosa? Posso, patato? Cosa? Vendere la luna blu Prova Cos'è la luna blu? Vendere la luna blu, io ce l'ho Prova a vedere se la gaia la vuole No, patata, non ti piaceva Fidati Non ci piaceva venire la gaia anche a me Figuro Ragazzi, come si fanno i cest? Serve del ferro Ah, bagno, allora no Figata il righello Il righello? Cosa? Scusate Ok Devo rigenerare un po' Oh, Cristo Di HP Ecco Ok Non potete capire cosa ho appena comprato Cosa ho appena comprato? Di stivali in razzo Ah, sì Ti puoi comprare da lui Sono una figata Cosa servono? Servono per correre più Ah, per volare in alto Compra lì anche te, patata Se hai soldi Se no fatti li comprare da Simo Per volare? Sì No, ho tutte le monete caviello Adesso mi vedrai patata Quattro cosa? Cinque monete d'oro Ne avevo trovate dieci Le monete d'oro Io ne ho quattro Io ne ho due Dobbiamo fare altre Un altro d'ottimo De doro Io ho un'altra chiave Vedo la rata Allora ho provato Perché me ne è tornata un'altra Io ne ho Ho tutto rampino Granate Detto foglie Ho solo due slot Nell'inventario Vabbè A me serva Allora ho un altro cesto dorato Ma questo l'hai aperto tu Eh, sei sbloccato sì Non è detto Eh, beh, ci sono anche cesto Non sbloccate Ah No No No, sì Ne hai aperto tu Ok